I casi positivi in ospedale si contano sulla bunda delle dita di una mano, nel laboratorio d'analisi. Casi di positività al Covid-19 tra i sanitari del San Donato di Arezzo. Ad annunciarlo per primo tramite social era stato il sindaco di Bibiena, Filippo Bagnoli. Il personale colpito lavora al laboratorio d'analisi dell'ospedale Aretino ed adesso arriva la conferma anche da parte dell'azienda sanitaria. Il riscontro di soggetti positivi al tampone è una possibilità che si verifica anche tra il personale ospedaliero perché si tratta di persone che vivono in ospedale ma vivono anche fuori dall'ospedale. Stiamo utilizzando tutte le procedure per proteggere il restante personale, chi è caso in questo momento è in isolamento domiciliare. Continuano così ad essere giorni di superlavoro al laboratorio analisi dove quotidianamente vengono processati più di 3.000 tamponi. A Arezzo si conferma anche oggi il laboratorio pubblico che ha processato più tamponi nelle ultime 24 ore. È un laboratorio di punta come tutto l'ospedale, sottoposto a stress organizzativo. È possibile che si verifichino dei ritardi ma è comprensibile in ragione alla mole di tamponi. Ricordo che nei giorni passati sono stati fatti più del doppio dei tamponi sull'ospedale di Arezzo che si facevano quando c'era il lockdown. Altrettanto impegnata la centrale per il tracciamento dei casi positivi ed adesso un aiuto arriverà anche dal comune di Arezzo. L'azienda ha accettato che ci possa essere anche nella fase di tracing dei casi un contributo da parte dell'amministrazione comunale cosa che io ho chiesto molte volte e a questo punto vista anche la pratica difficoltà a gestire numeri così elevati già da lunedì saremo in grado di confrontarci e di fare cose insieme. Questo è un passaggio secondo me decisivo perché si mettono insieme le competenze mediche dell'azienda con le competenze di tipo sociale e di tipo conoscitivo per quello che riguarda la realtà urbana del comune di Arezzo.